Musica Passeggiando nell'area espositori dell'albergatore Day abbiamo incontrato lo stand di Salto presso il quale Gianfranco Vaudagnotto di Salto e anche di STS Hotel presenta alcuni prodotti e ovviamente per STS Hotel c'è anche Paolo Botti. Bentornati a Mediotel Radio Grazie e benvenuta Cosa presenta Salto all'albergatore Day? Salto presenta la sua linea completa di sistemi di controllo accessi. Fondamentalmente Salto è un'azienda che è nata ormai da circa 15 anni e che si occupa dell'apertura delle porte e di tutti gli accessi all'interno di una struttura ricettiva. Quindi parliamo di garage, parliamo di piscine, parliamo di sale e riunioni e gestisce tutto questo con un unico sistema che poi possa essere una scheda, possa essere un dischetto, possa essere un braccialetto per gli alberghi di mare, fino ad arrivare all'innovazione dell'ultimo anno che si è fatta carico dell'esigenza dei bed and breakfast in modo particolare, che hanno pochissime cammere e strutture non presidiate normalmente. Il grosso problema è l'arrivo del cliente alle 2 di notte ad esempio. Chi dà la chiave per aprire? Abbiamo risolto il problema con il nostro sistema che trasmette una chiave per mezzo del telefono. Il cliente scarica un'app, arriva alle 3 di notte, avvicina il suo telefono alla serratura e entra in stanza. L'albergatore lo gestisce da casa, lo gestisce col suo pc, lo spedisce col suo telefono e non ha bisogno assolutamente di regarsi alle 2, alle 3 di notte ad aprire al suo cliente. Questa è un po' la filosofia dell'assalto che è una delle aziende a livello mondiale e tra le prime tre che si occupano solo ed esclusivamente di strutture ricettive o di uffici, però sempre nell'ambito della sicurezza. Questo è un po' il concetto totale. E Paolo, una volta aperta la porta, che succede? STS si occupa dell'interno camera, interfacciati attivamente con la maniglia salto. Con la stessa scheda abilitiamo le utenze di camera, tra le luci, la climatizzazione, questo per effettuare anche un risparmio energetico della camera stessa. Gli albergatori che avete incontrato in questa manifestazione, che cosa vi chiedono di più? Diciamo che ormai il discorso del controllo accesso con una scheda è entrato nella mentalità di tutti gli albergatori. Non arriva più un albergo che chieda una serratura meccanica, il futuro è dell'elettronica. Quello che si nota è che effettivamente nel corso degli anni i grandi albergatori ormai le conoscono tutti. Sta crescendo in modo spasmodico la richiesta delle piccole strutture. 5, 6, 8, 3, 4 camere che necessitano assolutamente di qualcosa di elettronico. E' un mercato non indifferente perché non so i dati quanto siano più o meno giusti, ma parlano degli ultimi dieci anni a Roma, abbiamo aperto 7, 8 mila strutture da 3, 4 camere. Cioè parliamo di 30 mila stanze, quindi non ha necessità che copre un mercato piuttosto ampio. Allora grazie a Gianfranco Vaudagnotto e a Paolo Botti per Salto ed STS Hotel. Allora grazie a Gianfranco Vaudagnotto.